Seccarelli, fuori per Buccarelli che si tussa dentro, subisce fallo. Seccarelli, fuori per Buccarelli. Seccarelli, fuori per Buccarelli che si tussa dentro, arresto, tiro. 40 secondi al termine, più 20 Siena, partita virtualmente finita. Sotto si va ad Antonelli, Antonelli subisce fallo. Monteri Paschi, Menzano Siena, campionale d'Italia, Ander 15. Le ricordiamo tutte insieme, Siena, Treviso, Cernuscolo, Bergamo, Strallazzaro, Mestre. Terzo e quarto posto, con l'Italia più di 20 punti. Ottimo Francesco Badocchi, ottimo Nicola Stessi. Lungo per Bicciano, il super Bicciano. Pierdi, molto bravo. Per il suo prossimo pallo a Canelli, visibilmente per il secondo, però soddisfatto. Il quarto giocatore è Pedroni. Playman e Castanese. Quelle sue prestazioni, anche stasera, autore di 17 punti e 8 rimbalzi. Ultimo giocatore. Il capitale Pedroni, numero 21, Trevisiano. Glorvisotto, numero 22, Bergamo, Stessi. Numero 24, Cernuschese. Badocchi, numero 21, Senese. Bucarelli. Veramente una grossa soddisfazione per questi ragazzi. E ora, il gran finale, la premiazione dei primi classificati dei campi Paschile, la Moloteri Paschi, Menzana, Siena. Guidata da Capista Mbuccarelli. Le gran premiazione dei romanzali a collo, dai presidenti della FIP regionale e provinciale. Immensa soddisfazione per Siena, che vince questo scudetto meritatamente, avendo dimostrato di essere largamente superiore alle altre contendenti, pur privi del loro playmaker titolare Alessandro Banchi, che ha subito una brutta fattura alla gamma destra nella fase eliminazione del Gironne. Ma quello che conta è che alla fine Sena abbia vinto. Per lui, per il gruppo, per lo staff. Veramente un basket sublime quello giocato da Sena. Soprattutto dal punto di vista difensivo. La 1-3-1 senese è la difesa migliore che si è vista all'interno di questo torneo. Poi il catalano ha fatto bene a abusare di questo schema. È riuscito così a vincere lo scudetto. Tutto è pronto per alzare ancora più bravi i ragazzi toscani. Mi sono riusciti a portarsi a casa lo scudetto. E adesso intorno siamo noi, siamo noi, campionetali siamo noi. e si tratta anche in questo caso della Monte dei Parchi di Siena, allenata da catalani. Qui tratta da Capitan Bucatelli.